Nel calisthenics molti di quegli esercizi che vengono ritenuti di base, quindi stiamo parlando di tutta una serie di piegamenti a terra, trazione alle sbarra, esercizi per le gambe, molti di questi esercizi che appunto sono di base per moltissime persone che sono all'inizio del loro percorso di allenamento o addirittura si sono sempre allenate poco nella loro vita e magari fanno anche dei lavori sedentari, sono esercizi improponibili, impossibili da eseguire, anche se per un praticante medio di calisthenics vengono ritenuti di base. Esistono pertanto tutta una serie di esercizi ancora prima, più facili, più assistiti che puoi utilizzare se sei tra queste persone per introdurti al mondo dell'allenamento corpo libero del calisthenics e dell'allenamento in generale. Pertanto se sei tra queste persone rimane con me, continuo a guardare questo video perché adesso vado a farti vedere tutta una serie di esercizi che puoi svolgere tranquillamente anche se non ti sei mai allenato prima domani. Dunque per iniziare è importantissimo lavorare sugli addominali, rinforzare tutto il corsetto addominali. Un esercizio, un primissimo esercizio in tenuta statica è quello che viene chiamato il tuck hollow, quindi gambe raccolte in modo tale che la bassa schiena stia aderente a terra, mani in avanti, vengo in avanti col mento e mantengo la posizione. Già questo esercizio mantenuto per 30-40 secondi, inizia letteralmente a farti friggere gli addominali. Se lo ritieni, la ritieni che sia già troppo facile per te, puoi renderlo un pochino più difficile aprendo l'angolo delle cosce rispetto al busto e sollevando le mani verso il soffitto. Un secondo esercizio che puoi tranquillamente svolgere, che generalmente anche chi non si è mai allenato riesce a svolgere tranquillamente, è il plank a terra, molto caratteristico nell'allenamento corpo libero. Quindi si mettono gli avambracci paralleli tra l'uomo, gambe e tronco in linea, quindi non si va troppo giù né troppo su con i glutei, stiamo abbastanza in linea. Qua è importantissimo chiudere bene il bacino. È proprio questa chiusura del bacino che a volte mette in difficoltà le persone che sono all'inizio. Questa chiusura del bacino è importantissima per attivare al meglio gli addominali. Molte persone fanno molta difficoltà, specialmente chi all'inizio, mettendosi in questa posizione inarcata. Questo non va bene. E allora ti consiglio le prime volte, vieni un pochino più sui glutei, immagina letteralmente di strizzare i glutei e questo ti aiuta veramente a ruotare indietro il bacino e attivare al massimo gli addominali. Ancora un altro esercizio molto utile per rinforzare l'addome e iniziare a lavorare anche sugli arti superiori, quindi sulle braccia. La camminata sulle mani, quindi da questa posizione raccolta, anche se non riesci a distendere le gambe, va bene lo stesso. Da qua vengo avanti, camminando come sulle mani. Arrivo fino a questo punto, evitando di inarcarmi troppo, mi mantengo più o meno in linea e torno indietro. E' importantissimo lavorare anche su tutta la parte posteriore, la catena posteriore, i posteriori delle cosce, i glutei e la schiena. Esercizi molto utili per rafforzare tutta questa catena, con esercizi semplici, sono questi. Sollevamento del bacino a terra, gambe fesse, piante dei piedi a terra, metto e incrocio le mani in questo modo e da qui sollevo bene il bacino verso l'alto, immaginando di strizzare bene i glutei. Da qua spingo, mantengo un secondo e vengo giù. Spingo, mantengo un secondo e vengo giù. Un altro esercizio utile per lavorare sulle gambe, sulla forza di quadricicchi in particolare, sono questi squat assistiti al muro. Ci mettiamo in questo modo letteralmente spingendosi contro il muro, seduti, cosce parare terreno, contibie perpendicolari al terreno, mantengo la posizione anche con le braccia. Molto utile per rinforzare le gambe, molto utile per chi usa questo esercizio o per chi ha problemi le ginocchia. Questa posizione si mantiene per 30-40 secondi, fino ad anche arrivare a un minuto. Ed infine un po' di esercizi di trazione, quindi se disponi di un TRX, delle ciglia, una corda, puoi sfruttarle per eseguire delle trazioni con un'inclinazione del corpo rispetto al pavimento che sia minima inizialmente, altrimenti diventa troppo difficile. Quindi, un'inclinazione che sia minima, questa qua può andare bene, giù le spalle, busto, core, gambe, tronco in linea, chiudo bene gli addominali se riesco, giù le spalle, dicevamo, ed è qua, tiro e vengo, tiro e riviste, tiro e riviste. Sempre parlando di trazioni, puoi fare ancora un esercizio molto interessante che ti permette di lavorare sulle scapole, rinforzare la cuffia dei rotatori. Molto utile per tutte quelle persone che lavorano tanto sedute tutto il giorno, in ufficio tutto il giorno, quindi tendono ad assumere nel tempo quella postura, come dire, protratta in avanti, con le spalle che cadono in avanti, con la gobba che si forma nel tratto dorsale, con il capo che si protende in avanti. Si tratta semplicemente di aprirsi, quindi cercare di restituire un po' di curve fisiologiche alla schiena. Quindi da qua, giù le spalle, l'inclinazione del corpo non troppo pronunciata, giù le spalle, per più fuori, tiro e apro verso, in questo modo. E questi esercizi sono solo l'inizio, quindi inizia ad affrontare questi esercizi facilitati per poi nel tempo entrare a mettere un percorso che ti porta poi a crescere e arrivare a quel livello che noi definiamo di base nel Caliste Nix, che per molti è già piuttosto avanzato. Bene, con questo è tutto, spero di averti fornito degli spunti utili per i tuoi allenamenti, per iniziare i tuoi allenamenti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!